Però ho deciso di fare un video in cui darvi effettivamente 5 suggerimenti per spendere bene questo tempo suddivisi tra consigli audio e consigli di fotografia Oh bravo Gianluca, questo è lo spirito giusto, bisogna essere sempre propositivi, soprattutto in un momento come questo Prendo spunto dal tuo video per dare il mio contributo alla piattaforma e alla community parte della quale è condivisa con la tua e quella di Audiofilando Per fare cosa? Per dare i miei suggerimenti sulle 5 cose da fare con la nostra collezione di vinili mentre restiamo in casa, 5 cose più una Ciao, io sono Johnny e qui su Venilicamente vi parlo di musica a 360 gradi Per tenervi compagnia in questo momento ho deciso di registrare questo video che rimando da mesi perché il tempo a disposizione è sempre troppo poco ed è poco in verità anche adesso perché io sto continuando ad andare a lavorare voi però rimanete a casa Dicevo, un video che rimando da mesi ma sono sicuro che in questo momento possa tornare utile a molti Prendetelo allora come la puntata zero di una ipotetica serie dedicata alla manutenzione del vinile Se gradirete, e scrivetemelo qui sotto nei commenti e condividete questo video Se gradirete tornerò con altri video del genere quindi con la serie Vinyl Care dedicata alla manutenzione del vinile Si parte! 5 cose da fare Approfondire Dove eravamo rimasti? Ci eravamo visti domenica scorsa nella live dedicata ai 5 dischi della nostra collezione da approfondire in questo momento Questa nostra bella passione talvolta si porta dietro qualche vizio di forma come l'acquisto compulsivo o il completismo Acquisto compulsivo di dischi di cui non abbiamo una reale necessità ma che a volte compriamo solo perché sono in offerta o in edizione limitata E completismo che si manifesta verso quegli artisti che amiamo per cui compriamo anche il peggio del peggio della loro discografia pur di possederla per intero senza però poi ascoltare nulla Ecco, adesso è arrivato il momento di mettere sul piatto quei dischi che non abbiamo mai avuto modo di ascoltare o di approfondire come si deve e magari questa ricerca del bello dove potrebbe anche non esserci può servirci come insegnamento non solo per ampliare i nostri orizzonti musicali ma anche nella vita di tutti i giorni Ecco, spero che impareremo a rallentare ogni tanto quando sarà finito tutto questo Spero che ci servirà appunto come insegnamento per apprezzare di più certi momenti che fino a qualche giorno fa davamo per scontati In questo senso un vinile può essere un'ottima cura lo è sempre stata in realtà almeno per quanto mi riguarda E sempre per quanto mi riguarda in questi giorni pensando alla passione all'approfondimento insomma tutte le cose che vi ho detto mi torna spesso in mente questa bellissima canzone del maestro Franco Battini Mi chiedo se ti va di uscire con noi Barry ci teneva anche lui sul serio ma a quanto vedo sei incasinato Stai rimettendo in ordine i dischi Rimettendo in ordine i dischi In che ordine però? Cronologico? No Non è alfabetico Non è alfabetico E cos'è? Autobiografico No dai non ci posso credere Credici Posso dirti come sono passato dai di Purple ad Howling Wolf in 25 tappe È incredibile Non solo Se devo trovare l'Handslide dei Fleetwood Mac faccio mente locale Lo comprai per regalarlo nell'autunno dell'83 Cerco in quella pila e lo trovo perché non lo regalai più per ragioni personali Un sistema Confortante Sì Lo è Pronto? Beh senti se vuoi resto qui ad aiutarti perché ad occhio e croce hai comunque bisogno di una mano però non dovresti tenerli accatastati in questa maniera se li formano col peso Senza contare che Ciao a domani Sì a domani Dopo aver letto Alta fedeltà di Nick Orby e soprattutto dopo aver visto il film che ne è stato tratto tutte le volte che mi sono messo a ordinare a riordinare la mia collezione di dischi mi è venuta in mente proprio questa scena che abbiamo appena visto Possiamo quindi investire in questo momento il tempo che abbiamo per stare in casa in questa attività fondamentale ordinare o riordinare la nostra collezione perché non c'è niente di più urticante di quando cerchi un disco e non lo trovi e allora devi fare in mente locale sull'ultima volta che l'hai ascoltato ricordarti dove caspita lo hai messo perché al suo posto non c'è e poi dopo che hai fatto venire giù tutti i santi lo trovi proprio lì dove lo stai cercando da ore ma non te ne eri ancora accorto ma li mortacci ma guarda dov'era ma porca puttana a me questo succede abbastanza spesso perché voi di solito non lo vedete ma qui in terra ho pile di dischi da sistemare tra nuovi arrivi dischi che ho usato per i video di youtube quelli che ho usato per fare i clippini sulla pagina facebook quelli che mi serviranno nei prossimi video e altro ancora insomma a un certo punto bisogna fare un reset e risistemare tutto e questo è il momento giusto io personalmente utilizzo il classico ordinamento alfabetico perché per me è più comodo e poi tra vinili e cd ormai ho superato ampiamente i 3000 pezzi negli scaffali utilizzo poi dei divisori come questi che sono di plastica che ho acquistato online però però se come me conservate anche gli imballi dei vinili di amazon o simili possiamo farceli da soli in casa con pochi euro magari ritagliando la parte che vogliamo e poi aggiungendo del nastro per dargli ancora più rigidità insomma facciamo lavorare la fantasia visto che abbiamo la possibilità di farlo un ultimo consiglio se come me avete in casa degli scaffali Ikea della serie Kallax visto che hanno una profondità maggiore di quella necessaria senza comprare niente ma ritagliando gli imballi dei vinili possiamo fare spessore in fondo allo scaffale per avere il vinile nella posizione più comoda ad esempio IBS lo store online nell'ultimo periodo sta inviando i propri vinili con queste scatole che sono perfette allo scopo perché sono proprio della misura giusta in questo caso ne basta una per fare lo spessore per me più comodo quindi abbasso la pigrizia viva il prendersi cura di noi stessi quindi delle nostre passioni e quindi dei nostri dischi 5 cose da fare catalogare allora immaginate che questi scaffali siano vuoti e che io debba reinserire i dischi che ho appena messo in ordine alfabetico bene questo è il momento per catalogarli nella nostra collezione e quindi evitare di doverlo fare in un secondo momento ritirandoli fuori uno ad uno e quindi impazzire e poi una cosa molto importante farlo sempre anche per i nuovi arrivi subito non appena siamo usciti dal negozio quando potremo tornare nei negozi e non appena il corriere ci ha portato il disco a casa magari a volte i database non sono aggiornati aspettare qualche giorno però farlo il prima possibile perché questo metodo ci eviterà delle brutte sorprese come ad esempio comprare lo stesso disco due volte come catalogarli beh io consiglio di farlo su smartphone perché lo abbiamo sempre con noi e può essere molto utile quando siamo fuori ad un mercatino ad una fiera e non ci ricordiamo se abbiamo già quel disco oppure se ce lo ricordiamo non ricordiamo quale stampa sia la copia che abbiamo a casa ci sono diverse applicazioni che svolgono questa funzione ma per i miei gusti la più comoda e versatile è quella di discogs non solo perché ci consente di usufruire di un database sterminato non solo perché è possibile farlo rapidamente scannerizzando il codice a barre ma anche perché si collega all'account che utilizziamo sul sito web di discogs sull'app ci sono anche le sezioni dedicate ai nostri acquisti e le nostre vendite però personalmente quando devo cercare qualche disco preferisco farlo dal sito per catalogare i nostri vinili però l'app sul telefono è l'ideale 5 cose da fare lavare come conservare i nostri amati vinili è linda come conservarli e come farli durare a lungo beh la prima cosa da fare nonostante il nostro amore per i felini è quello di non farli entrare dove ci sono i dischi perché i gatti sono ghiotti degli spigolini degli angolini quindi non sarà inusuale trovare gli angoli dei vinili di cartone morsicchiati dai vostri gatti o le buste di plastica quando va bene quando va male atterreranno direttamente sul vostro giradischi in funzione come è successo a me con la mia amata linda quindi se possibile non li fate entrare però a parte gli scherzi come conservarli e come farli durare a lungo a volte la pulizia con una spazzolina con le setole in fibra di carbonio non è sufficiente a volte non basta neanche il rullo ci vuole proprio una bella lavata ognuno ha la propria ricetta magica molti l'hanno anche pubblicata qui su youtube attirando ovviamente sia applausi che offese in futuro vi proporrò delle soluzioni alternative però oggi voglio farvi vedere quella che secondo me è la soluzione migliore per efficacia rapportata al prezzo come forse saprete esistono sul mercato macchine lavadischi che vanno da diverse centinaia di euro fino a svariate migliaia di euro sono apparecchi professionali che qualche negoziante di dischi o di hi fi ha acquistato per offrire al cliente un servizio di pulizia di solito al prezzo di uno o due euro a disco tra le varie opzioni presenti sul mercato io suggerisco la Knosti disco antistat vedete cosa c'è scritto questa è la prima versione nello specifico io suggerisco la seconda versione la seconda generazione come scritto qua sopra e adesso vi faccio vedere il perché ecco quindi questa è la prima generazione di Knosti queste sono le due parti che vanno a serrare il vinile il vinile si inserisce in questo modo e poi viene fatto ruotare così quindi il vinile si lava nella soluzione antistatica e viene fatto girare in questo modo non è il massimo della praticità meglio la seconda generazione perché ha questo manico e ha anche i fermi quindi noi serriamo queste piccole viti di plastica e possiamo agire in questo modo facendo ruotare il disco senza mettere le mani sulla ruota e quindi evitando che si allenti facendo entrare il liquido all'interno dell'etichetta quindi bagnandola non si rovina però è sempre una menata farla asciugare a volte rimangono i residui sulla etichetta soprattutto se è colorata la Knosti arriva con integrata qui sotto una rastrelliera dove posizionare ad asciugare i nostri dischi dopo che li abbiamo lavati quindi vi faccio vedere molto rapidamente poi se volete un tutorial approfondito se volete una serie dedicata alla manutenzione del vinile commentate qui sotto con scritto hashtag vinyl care dunque inseriamo la soluzione una soluzione antistatica un litro vi arriva nella confezione poi i ricambi si trovano piuttosto facilmente sia su ebay che su amazon dopo che abbiamo inserito la soluzione immergiamo il disco vedete che ho fissato le due parti al vinile scusate alzo il fermo ok dopo averlo pulito noi facciamo più velocemente dopo averlo pulito apriamo la ruota ovviamente sarà difficilissimo da aprire perché sto facendo il video e posizioniamo il disco sulla rastrelliera e lo facciamo asciugare una mezz'oretta circa ecco quando tutti i residui non sono più visibili però ripeto è meglio fare un tutorial più lungo o se lo volete commentate con scritto vinile care anche perché io con l'acnosti consiglio di fare un secondo lavaggio dopo il primo non nella soluzione ma con acqua distillata le cinque cose da fare ascoltare come? e non ti sento? come? non ti sento? ascoltare le proposte altrui troppo spesso abbiamo la presunzione di pensare che come ne capiamo noi di musica non ce n'è che solo noi riusciamo a selezionare quali dischi avere e quali evitare nella discografia di un artista con una lunga carriera alle spalle solo noi abbiamo il fiuto magico per le novità da tenere d'occhio insomma meno male che esistiamo meno male che si piace quindi rilassiamoci la discografia mondiale andrà avanti anche senza le nostre preziosissime opinioni e mi ci metto ovviamente anche io nel mezzo ma perché vi dico questo? per dimostrarvi che in una community è possibile crescere insieme perché come voi prendete spunto da un mio video per artisti che non conoscete o che non avete mai approfondito così io posso andare ad ascoltare quelli che mi segnalate nei commenti poi è normale che non tutto quello che vi propongo possa piacervi così come non tutto quello che mi segnalate poi mi piaccia effettivamente il fine è comunicare creare uno scambio virtuoso che viaggia in circolo e che non è unidirezionale quindi che non va solo da me verso di voi come purtroppo vedo che molti youtuber fanno forse per molti dirò delle cose ovvie ma vi assicuro che c'è ancora chi tra di voi non lo capisce e talvolta non lo vuole capire maliziosamente quindi spero che questo periodo serva anche a farci riflettere su quali siano i nostri limiti e su come possiamo fare per migliorarci quindi ascoltare non solo un disco ma anche quello che cerca di comunicarci il nostro prossimo e a proposito di comunicare qui sotto nei commenti scrivetemi non solo se gradite dei tutorial sulla manutenzione del vinile con hashtag vinylcare ma scrivetemi anche quali sono i cinque dischi che consigliereste ad un vostro amico di ascoltare in questo periodo scrivendo anche due righe sul perché consigliate proprio quel disco così tutti possiamo prendere appunti possiamo crescere insieme apprendere nuove cose insieme 5 cose da fare più una sfruttare youtube lo diceva anche Gianluca all'inizio del suo video possiamo sfruttare questo tempo per recuperare i contenuti dei canali che già seguiamo come ad esempio gli oltre 160 video qui su vinilicamente più tutti quelli degli altri due moschettieri dell'audio e poi magari per qualcuno di voi è arrivato il momento di aprire il proprio canale perché youtube è una piattaforma libera che dà spazio a tutti sia a chi fa video col telefonino sia a chi fa video come in un vero e proprio studio televisivo forse la cosa importante è la finalità con cui si apre un canale se lo apriamo solo per campare con youtube forse non è il modo migliore di iniziare se invece lo apriamo perché vogliamo dire la nostra su un argomento perché vogliamo portare un nostro contenuto una nostra visione beh allora in quel caso arricchiremo questa piattaforma che ha ancora tanto da dare nonostante molti gli stiano già scavando la fossa mi sono fondamentalmente resa conto che youtube è morto ragazzi è tutto per oggi fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i 5 rischi che consigliereste ad un vostro amico da ascoltare in questo periodo e iniziate il commento con hashtag vinylcare tutto attaccato se gradite dei tutorial sulla manutenzione del vinile quando non vado al lavoro io resto a casa e fatelo anche voi perché è importante a presto e buone ascolti a presto